Ben trovati da Andrea Lazzara con le previsioni del tempo di ARPAL. ARPAL che ha emanato l'allerta meteo gialla per piogge diffuse temporali sul centro della regione i bacini padani di Levante, le zone B ed E per quanto riguarda i bacini piccoli e medi. L'allerta scatterà a mezzanotte e si concluderà alle 10 di domani, appunto mercoledì 10 febbraio. Per il Levante la zona C, bacini piccoli da mezzanotte alle 10, bacini piccoli e medi da mezzanotte alle 15. Dunque dopo le precipitazioni tra la serata di ieri e la notte, in particolare sul centro Levante e le schierette della mattinata, dalla serata di oggi sulla Liguria è atteso il transito di una veloce perturbazione con piogge diffuse, rovesci e temporali, in particolare ancora sul centro Levante. Giovedì soleggiato, aumento delle nubi dalla sera sui versanti padani, venerdì instabile con brusco calo delle temperature. Il dettaglio oggi, martedì 9 febbraio, nubi irregolari con schierite anche ampie sull'estremo Ponente, addensamenti più compatti sul centro Levante con locali piovaschi, specie sui rilievi. Dal pomeriggio generale aumento della nuvolosità per l'arrivo di una nuova perturbazione associata a precipitazioni diffuse in tarda serata e nella notte. Venti inizialmente deboli o moderati meridionali in intensificazione fino a forti in serata, localmente di burrasca da sud oveste sui capi di Ponente. Mare molto mosso in aumento fino ad agitato per onda di libeccio con mareggiate Levante sulle coste più esposte di centro Ponente. Temperature massime stazionarie lungo la costa intorno 13-14 gradi, nelle zone interne intorno 10-11 gradi. Domani, mercoledì 10 febbraio, nella notte piogge diffuse anche a carattere di rovescio temporale forte, specie sull'impriese sul centro Levante. Quota neve inizialmente oltre i 1.400 metri, in calo localmente fino a 800 metri sui versanti padani di Ponente. Esaurimento dei fenomeni in mattinata. A partire da Ponente con tendenza schiarita in graduale estensione verso Levante. Venti moderati o forti meridionali nella notte con rinforzi di burrasca Levante in rotazione dai quadranti settentrionali in mattinata sul centro Ponente. Nel pomeriggio sera generale attenuazione fino a deboli o moderati in rotazione ciclonica. Mare agitato con mareggiate per onda formata di libeccio. Temperature minime stazionarie lungo la costa tra 8-10 gradi, nelle zone interne tra 4-8 gradi. Massime stazionarie lungo la costa tra 12-14 gradi, nelle zone interne tra 9-11 gradi. Dopodomani, giovedì 11 febbraio, una rimonta anticiclonica sull'Europa occidentale riporterà condizioni di tempo soleggiato, a parte qualche velatura dal pomeriggio. Inserata addensamenti sui versanti padani per l'instaurarsi di un flusso da est-nord-est nei bassi strati. Venti deboli e moderati settentrionali in rinforzo inserata sul centro Ponente. Temporanea rotazione dai quadranti orientali nelle ore centrali. Mare molto mosso localmente agitato a Levante per onda di libeccio. Temperature minime in diminuzione lungo la costa tra 5-8 gradi nelle zone interne intorno a 2-3 gradi. Massime in aumento lungo la costa intorno a 14-15 gradi nelle zone interne tra 11-13 gradi. È tutto, seguite gli aggiornamenti su arpal.liguria.it, sulla pagina Facebook di Arpal e sul profilo Instagram dell'agenzia. A risentirci!